È importante per me concettualizzare sicuramente l'opera, ma non sempre questo avviene nel momento in cui tu la pensi e hai il desiderio di farla, ma questo può avvenire anche durante il lavoro. Cioè c'è tutto un procedimento e quindi può essere un qualcosa che nasce in modo molto istintivo e trova poi la carica di ciò che poi tu vuoi esprimere veramente. Insomma è un pochino come dire oggi mi va, ho voglia, ho la sensazione, il desiderio di fare una cosa e inizi a farla, ma non sai esattamente bene perché. È lungo il percorso che poi questo ti viene rivelato, in un certo senso.